Eccoci al calcio, Napoli c'è il terzo acquisto, mentre invece new entry in casa Paganese, il centrocampista Nicolas Bensagia, classe 95, intanto sia per gli azzurro stellati che per i rossoneri si potrebbe vedere il ritorno di due ex capitani, di due numeri 10, Scarpa e Cavallaro. Vediamo. Mentre i calciatori del Napoli continuano a lavorare in ritiro agli ordini del tecnico Maurizio Sarri, la società azzurra continua a lavorare sul fronte mercato. Il terzo acquisto dopo una Serrui potrebbe essere Berenguer. L'arrivo del calciatore andrebbe a completare i rinforzi sulle corsie esterne. Paganesi è ufficialmente iscritto al campionato di Serie C 2017-2018, arriva infatti l'ok della Codisoc che, esaminata la documentazione, ha dato risponso positivo. Si lavora intanto sul fronte mercato, acquistato dal Pescara a titolo temporaneo fino al giugno del prossimo anno, il centrocampista Nicolas Bensagia, classe 95. Lo scorso anno era al Catanzaro. È stato capitano al torneo di Viareggio con la rappresentativa di Serie D, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti. E arriva anche il rinnovo di accordo per la prossima stagione sportiva con lo staff medico. Sabato tutti il ritiro intanto. Si parte per Gubbio, dove gli azzurro stellati resteranno fino al 28 luglio. Un punto che in questo momento, a Comuna Paganese e Nocerina, entrambe le compagini potrebbero rivedere il ritorno dei capitani. Scarpa per gli azzurro stellati, Cavallaro per i rossoneri. Intanto, in casa proprio rossonera è partita la campagna marketing per la stagione calcistica 2017-2018, sempre al tuo fianco. In casa Cavese, dopo l'iscrizione online al campionato di Serie D, si attende l'ulteriore passo con il passaggio di consegne tra il presidente Campitiello e l'associazione di tifosi. Sarebbe questione di giorni. Bene, ora andiamo invece a vedere che cosa succede in casa Granata, in casa della Salernitana. Servizio. La Salernitana si muove sul mercato sulle note del Fado. E mette a segno un doppio colpo dal Portogallo. Dopo il centravanti Roberto, Fabiani chiude anche per l'esterno Alex, da settimane nerata al Granata. I due andranno a far compagnia al connazionale Giovo Silva, che però potrebbe essere ceduto dopo il ritiro. Due attaccanti lusitani in arrivo, le cui qualità, andranno a testare sul campo, mentre due gemelli del gol dell'ultimo BN vestono altri colori. Dopo coda, anche Donnarumma ha salutato tramite i social i tifosi Granata nel giorno della sua presentazione ufficiale ad Empoli. Con la società toscana, la Salernitana deve ratificare la trattativa per il portiere Alberto Pelagotti, non convocato per il ritiro dai toscani, cui è legato ad altri due anni di contratto ed in attesa di essere annunciato dal club Granata che ha nuovamente sondato Seculin. Aspetta un cenno anche signori da una settimana pronto a firmare il contratto biennale proposto di Fabiani. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, altrimenti l'ex Vicenza potrebbe prendere altre strade. Bollini in mediana vorrebbe Ricci della Roma ed Emanuello dell'Atalanta. Nel frattempo si allontana Gucer, corteggiatissimo da Lecce, cui la Salernitana ha chiesto notizie dell'esterno d'attacco Franco Maliano-Dumbià, vecchio pallino di Bollini. Restano monitorati gli svincolati Bellomo e Di Roberto. Raffaele Puccino ha già sostenuto le visite medie. Ora siamo alla fine del nostro telegiornale con queste notizie dedicate al calcio. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro corso.